Gentili telespettatori, buona giornata. E così Emiliano, il presidente della regione Puglia, mentre discutono la sua mozione di sfiducia nel parlamentino regionale, chiamiamolo così, lui gioca a Burraco e a Tetris sul cellulare. Forse per ingannare la tensione? O forse è proprio il suo atteggiamento verso le istituzioni? Io credo più o più sulla seconda ipotesi, un atteggiamento sbruffone verso le istituzioni. Volete sfiduciarmi? Come dire, vabbè, dai, facciamo sta pagliacciata, finiamola presto che andiamo avanti. Infatti poi non è stato sfiduciato. Tutta la sinistra in maniera compatta, anche il Movimento 5 Stelle non lo hanno sfiduciato. E così, mentre lui attende il risponso che era per cacciarlo, gioca a Tetris e a Burraco sul cellulare. Michele, Emiliano, quello che portava De Caro sotto la protezione della sorella del boss perché De Caro era stato minacciato come assensore. Oggi quell'Emiliano e quel De Caro che non dovrebbero esserci più in politica. perché quando viene alla luce che i due, al posto che andare alla polizia a sporgere denuncia per minacce, vanno sotto la protezione della sorella del boss di Bari Vecchia, capite che evidentemente questi due sarebbero dovuti essere espulsi dal PD all'istante e le istituzioni avrebbero dovuto fare in modo di cacciarli dalla politica. E invece sono lì, lui è lì che gioca a Tetris e a Burraco, sfidando proprio le istituzioni che dovrebbero cacciarlo e che non lo hanno cacciato. Capito, no? Lui si affida sotto la protezione della sorella del boss e la sinistra vota compatta per tenerlo al suo posto. Caspiterina, eh sì, giocava sul telefono mentre si alternano gli interventi con cui i consiglieri regionali esprimono un sì e un no alla mozione di sfiducia presentata dai partiti di centrodestra. Dopo quello che è successo, poi anche altre cose, non è solo quella della sorella del boss, e ce ne sono altre, e lui giocava a Burraco e a Tetris. E vi racconto quest'altra. Schlein dice che il 2 giugno in piazza contro premierato e autonomia. stop con i rolli, stop, no, dice stop a disintegrazione voluta dalla destra. Disintegrazione di che cosa? No, chiedo per un amico. Che cos'è che starebbe disintegrando la destra? La Costituzione? La Costituzione è stata fatta e c'è la possibilità che dà la stessa Costituzione di essere cambiata. Con delle regole la Costituzione può essere cambiata. Infatti il centrodestra, con tutte le regole della Costituzione, proverà a fare delle modifiche, a fare dei cambiamenti. Se ci riuscirà, con le regole che ci sono, cambierà la Costituzione. Come è riuscita e ci ha provato mille volte la sinistra. Solo che se lo fa la destra, allarmi, allarmi. Se lo fa la sinistra, tutto va bene. Non vi ricordate che la sinistra ha anche bombardato la Jugoslavia? Non so se vi ricordate che D'Alema aveva autorizzato i caccia italiani a bombardare la Jugoslavia. Tutti muti. La sinistra ha fatto il blocco navale con la Jugoslavia. La sinistra ha bombardato la Jugoslavia. Quindi, secondo come pensano oggi a sinistra, loro stessi hanno fatto le cose peggiori del mondo. Il blocco navale. Hanno bombardato un altro paese senza l'autorizzazione del Parlamento. Non so se mi capite che la sinistra fa delle cose che farebbero drizzare i capelli a chiunque, ma se la destra vuole modificare la Costituzione come prevede la Costituzione, sono mesi che strillano e starnazzano. Il 2 giugno non è la festa della Repubblica? La festa della Repubblica è il 2 giugno. Si festeggia ogni anno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma, dove sfilano anche le forze armate. Il 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana. La Schlein vuole rovinare anche questa festa. Dopo che ogni anno rovinano la festa del 25 aprile, adesso vogliono impadronirsi anche della festa del 2 giugno. perché detta elli vuole andare in piazza, proprio poco prima delle elezioni europee, contro premierato e autonomia, perché deve fermare la disintegrazione voluta dalla destra. A parte la disintegrazione che è veramente una buffonata a dire una roba del genere, premierato e autonomia, se il Parlamento con i voti e tutte le leggi passeranno, se ne faranno una ragione. Poi se un giorno andranno a governare, rifaranno la modifica della Costituzione e ricancelleranno il premierato e l'autonomia, modificando di nuovo la Costituzione. Quindi, cari amici di sinistra, nulla è perduto. Quando un giorno riuscirete a vincere le elezioni, se ci sarà premierato e autonomia, perché sono due riforme costituzionali che ci vuole il 66% degli eletti per farle passare, poi si finirà probabilmente il referendum, nel caso dovessero essere approvate, a questo punto, se voi riuscirete alle prossime elezioni a vincere, andrete a cancellarle, come un classico in Italia. Uno fa e arriva l'altro che distrugge, poi quello che arriva che distrugge fa un'altra cosa, arriva quello dopo e cancella tutto. L'Italia è andata avanti così per anni, a cancellare quello che facevano quelli di prima. Il ponte sullo stretto e lo facciamo, poi arrivano quelli dopo che cancellano, poi arrivano altri e ricominciamo, ricancelliamo. Così siamo andati avanti per anni, a fare e disfare quello che facevano gli altri. Quindi, volete cancellare queste cose qua, se saranno fatte, quando vincerete le elezioni, lo potrete fare, se lo vorrete fare. Ecco. Oggi sbraitano perché la RAI deve essere libera. Hanno governato per 11-12 anni, non hanno fatto niente sulla RAI? Hanno governato per tutti quegli anni e non hanno fatto il salario minimo e adesso starnazzano? Arrivederci a tutti e grazie.